Buongiorno a tutti, giovedì, solito epilogo, non diciamo com'è finita Pimpong e Anto, ora andiamo al campo che ci aspetta un attrenamento, andiamo dagli altri che sono già là e ci avviciniamo alla partita. In sfogliatoio non c'era nessuno quindi sicuramente sono in palestra. Ieri bene bene, a podio, bravo, bravo Camel, un po' di palestino, oggi un po' di dorso, precipiti, gambe, tu sei il difessore centrale terzino, me lo sai che sei un po' più largo. Un po' di rematore. Ciao Leo, mollare. Bufalone messicano che fa sempre così. Vediamo se sei bravo, non lo devi far smattere. Ciao ragazzi, domani. Anche l'allenamento di oggi è finito, partitella vinta, ora vado a dare una mano ad allenare i ragazzi del settore giovanile del Levico, poi una bella cenetta e ci riposiamo che l'allenamento di oggi è stato bello distruttivo. Ciao ragazzi. Oggi si torna a casa col buio che siamo cotti sticchiti. Mi sono dimenticato che la cena di stasera non ce l'ho, quindi... Allora Camel, dimmi come ti inizia stasera. Salatina leggera con mozzarella campana. Mozzarella campana con nocigrana e pollo arrosto. Buon appetito. Mace point, Mace point! Calma, calma, che importante Rapp, calma. Mace, 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 Mace! No, Mace! Ciao, ciao! Andiamo a tagliare i capelli. Buongiorno, noi ci vediamo prossimamente. Il capello tagliato. Siamo pronti per domenica, ora torniamo in hotel e dopo andiamo all'allenamento che ci aspetta un venerdì. Noi facciamo un allenamento un po' meno intenso rispetto agli altri giorni, però ci prepariamo alla partita. Pasta e fagiola. Siamo sempre i primi, eh? Non muoviamo niente. Come al solito andiamo a fare gli esercizi prima di allenamento, un po' di prevenzione. Cosa fai con il rullo? Un po' di schiena, un po' di flessure, quale difficile. Il rullo elastico. E la salvezza. Siamo con un po' di addominali oggi, Anto. Nel frattempo ho ritrovato Leo che dopo il pranzo gourmet che mi ha fatto si stava nascondendo dalle telecaste. Pasta e fagioli, non succede mai più. Comunque anche per oggi abbiamo fatto la parte un po' più noiosa dell'allenamento. Un po' di prevenzione, però fondamentale per gli infortuni. Oggi faremo un po' di porte tattica. Tattica, qualche pallina attiva. Direzione cartigliano. Vamos! E' perfetto per andare a fare una ripiengura. Pensate che una volta ho visto Moran palleggiare con due granizze. Questa è una castola. Ma questa è una castola. La racconteremo più avanti. Arrivati al campo. Siamo, si vola. All'allenamento finito. Abbiamo pranzato al campo. Rifinitura bagnata, rifinitura fortunata, speriamo. Siamo pronti per domani. Andiamo a giocare contro il cartigliano. Speriamo di portare a casa punti perché domani è molto importante. La prima merenda con i cammè. the % a a a a Grazie a tutti